Come posso certificare la catena del valore dei miei prodotti? I dati sono una risorsa fondamentale per influenzare positivamente la produzione e le operazioni aziendali. Nell'industria della carta, del tissue e del non-wovens, i dati possono certificare la catena del valore, garantendo la conformità ai più alti standard qualitativi di ogni fase del processo produttivo, dalla scelta delle materie prime, alle dinamiche di produzione e converti, fino ad arrivare allo scaffale. Per raggiungere questo obiettivo, Acelli ha sviluppato iRail. Si tratta di un sistema di tracciatura e archiviazione delle informazioni e delle caratteristiche della bobina, dall'architettura estremamente scalabile e flessibile. Sviluppata sulla tecnologia dei TAG RFID, la nostra soluzione fornisce un framework completamente integrato che consente la comunicazione tra i dati provenienti dalle diverse macchine su ciascuna linea e quelli provenienti dalle applicazioni industriali ed aziendali. Grazie ad iRail, ogni bobina avrà un suo passaporto digitale.